ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai farmaci veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il farmaco veterinario che knock out a cosa serve che knock out a un medicinale veterinario a base del principio attivo guai fenesina appartenente alla categoria degli mio rilassanti e nello specifico altri mio rilassanti ad azione centrale è commercializzato in italia dall'azienda acme srl che knock out può essere prescritto con ricetta rn rv ricetta medica in copia unica non ripetibile informazioni commerciali sulla prescrizione titolare acme srl concessionario acme srl ricetta rn rv ricetta medica in copia unica non ripetibile principio attivo guai fenesina gruppo terapeutico mio rilassanti forma farmaceutica fiala iniettabile confezioni che knock out h 500 ml principio attivo 1 l di soluzione contiene guai fenesina 80 g eccipienti glucosio monoidrato sodio metabisolfito ph 3 2 3 5 mos barra l 681 indicazioni che knock out a una soluzione sterile pirogena monodose per uso endovinoso indicata per il coricamento farmacologico del cavallo associato ad un breve e lieve livello di anestesia indicata per facilitare l'intubamento tracheale per limitare i traumatismi pre e post operatori per facilitare attraverso il mio rilassamento le manovre chirurgico ortopediche conservare nella confezione originale a temperatura non inferiore ai 20 a gradi posologia somministrare rapidamente per via endovinosa 80 mg di guai fenesina per chilogrammi di peso vivo applicando un'adeguata pressione sulla sacca una sacca da 500 ml 10 g all'otto per cento alla dose di 80 mg barra chilogrammi peso serve per il coricamento di un cavallo di 500 kg di peso che dura 15 30 minuti anche in assenza di pre medicazione anestetica avvertenze precauzioni speciali per l'impiego negli animali somministrare rapidamente per via endovinosa applicando un'adeguata pressione sulla sacca se usato da solo senza pre medicazione anestetica può produrre un ritmo respiratorio leggermente accelerato tempi di sospensione il prodotto non deve essere somministrato ad equidi allevati a scopo alimentare per equidi non destinati alla produzione di alimenti per consumo umano fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato farmaceutico grazie per avermi seguito